Dal punto di vista dei partecipanti al progetto, come possiamo considerare questa esperienza e che cosa ci aspettiamo da questo progetto Vale? Allora, possiamo considerarla un'esperienza positiva, cioè credo che tutti i partecipanti al corso possiamo essere d'accordo che sia stata una bella esperienza, nel senso ci ha lasciato parecchie cose, magari anche ci ha fatto crescere su punti che potevano migliorare sicuramente, ma nel complesso è andato tutto bene e cosa possiamo aspettarci nel senso... Rispetto alle prospettive di lavoro? Diciamo che ha lasciato secondo me tanti input a tutti, c'è chi ha trovato la sua strada, chi l'ha cambiata, chi ha avuto appunto tanti spunti su magari un futuro personale, perché comunque è anche quello che ha lasciato il progetto e poi personalmente c'è chi lavora già e quindi cerca di mettere un po' in pratica quello che abbiamo imparato, sia dalla parte teorica che pratica, perché comunque siamo stati un gruppo di lavoro, oltre a un gruppo di scuola, di studio. Per fare un confronto, avete avuto la possibilità di fare un confronto col metodo di lavoro francese? Sì, beh, io ho lavorato in una pasticceria, cosa che non avevo mai fatto, e quindi è stata una cosa nuova e interessante. Ho trovato un lavoro frenetico, ben organizzato, poi non so se era solo dove lavoravo io o cosa, e, boh, sì, è stato interessante, diverso sicuramente, diverso anche cercare di capire esattamente cosa ti dicevano. E questa esperienza porterà a una scelta di lavoro definitiva? Ma io lavoro in una gelateria e cercherò di mettere in pratica ciò che ho imparato nella pasticceria, nel mio lavoro, che è quello comunque di preparazione di torte, e quindi cercherò di implementare ciò che ho imparato nel mio lavoro, appunto, portando avanti.